Solamente il Real Siracusa Belvedere, allenato da Danilo Gallo, ha iniziato la preparazione precampionato da ben dieci giorni. I biancorossi, vecchi e nuovi, lavorano come anche oggi sul campo in erba sintetica del Giorgio di Bari di Via Lazio. I calciatori di Filippo, Brancato, Boccatifuoco, Spoto, Saraceno, Pasqualicchio, Iacono, Sillando, Lina, Alfogliano, Manzervigi, Busami, Dolo, Quarto, Ulma, Martinez, Miraglia, Greco, Germano, Ruiz e Fratantonio sono consapevoli di dover disputare un campionato di grande spessore per centrare l'obiettivo della salvezza. Sul fronte del settore giovanile, il club del presidente Tonello Liuzzo ha stipulato un accordo di collaborazione con la Rari Nantes di Alessandro Di Mauro. Tutto fermo al Palazzolo Calcio, unico e solo sodalizio nei pensieri della famiglia Cutrufo dopo la cessione dell'ASD Siracusa. L'intenzione è quella di approntare una squadra di tutto rispetto sotto le direttive di Giuseppe Matarazzo in qualità di direttore generale sportivo. La guida tecnica sarà affidata un allenatore di provata e esperienza del torneo di eccellenza. Si fanno i nomi di Giuseppe Anastasi come anche di Salvatore Utro, ex del Marina di Ragusa. In giallo verde dovrebbero trovare spazio alcuni fedelissimi della famiglia Cutrufo come Emanuele Catania, Giuseppe Grasso e Luca Palmisano. Il città di Siracusa, che potrebbe leggere alla carica di presidente il floridiano Giuseppe Bastante, imprenditore dell'edilizia con varie figure di riferimento da Roberto Regina, Feliciano Di Blasi per passare a Salvo Montagno e Nicola Figura e infine a Salvo Bianco, sono tutti alla ricerca dei calciatori per comporre il roster della prossima stagione. Si punta ad atleti nati e cresciuti a Siracusa e provincia. L'appeal della maglia azzura dovrebbe rappresentare poi l'elemento principale per la scelta di ogni singolo calciatore. Intanto si lavora anche alle necessarie interlocuzioni con la Lega Direttanti di Palermo per ottimizzare il passaggio del Marina di Ragusa a Siracusa città, anche se dal capologo Ibleo giungono notizie circa diversi contenziosi finanziari ancora aperti con oriundi calciatori stranieri ma anche contesserati della catastrofica stagione in Serie D. Il Carlentini di mister Natale Serafino a giorni inizierà la preparazione per campionato. Gli ultimi arrivi in ordine di tempo sono quelli del difensore Giovanni Spampinato dalla Cicatena per poi passare all'attaccante centrale Vito Finocchiaro classe 2000 con un passato recente in Serie D in eccellenza. Infine la Leonzio che si affiderà alla guida tecnica di Pierpaolo Alderisi, allenatore che conosce benissimo il campionato e l'esigente piazza di Lentini.